E' stato presentato presso la sede della giunta regionale di Piazza Castello il primo punto di accesso wifi completamente libero, senza autenticazione, che copre l'intero palazzo della regione e l'antistante Piazza Castello. Erano presenti all'incontro il vicepresidente Roberto Placido, l'assessore regionale all'innovazione Massimo Giordano e il direttore regionale all'innovazione Roberto Moriondo. Grazie per la visione!